È un appuntamento importante, è un momento di grandissima utilità perché è un luogo dove si incontreranno tantissime persone che avranno l'opportunità di essere controllate. Quando la medicina si sposta e va ad incontrare le persone nei luoghi di maggiore concentrazione diventa certamente un servizio fatto alla collettività in maniera intelligente e intuitiva. Oltre a questo la possibilità anche di vaccinarsi quindi ritengo che questi giorni di questo villaggio della salute dovranno essere fortemente promozionati e pubblicizzati ai cittadini che debbono utilizzare questi momenti per poter dare l'abbio a quegli screening che diventano fondamentali per la salute di tutti quanti.